Salve a tutti. È stato approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 111 2021 che come sappiamo ha introdotto l'obbligo del Green Pass a scuola e nelle università. È stato sostanzialmente confermato il piano sanzionatorio previsto dal Decreto Legge e di compiti in materia di verifica. Ma andiamo con ordine. Aspetterà i dirigenti scolastici a certare e verificare il possesso da parte del personale non solo interno, quindi docenti e personaleata, ma anche lavoratori esterni che per motivi di servizio o di lavoro accedono alle istituzioni scolastiche, il possesso del certificato verde. Cosa succede in caso di mancato possesso? In questo caso scatteranno le sanzioni previste dalla legge. In particolare il personale sprovvisto di Green Pass verrà considerato assente e ingiustificato e quindi non potrà ricevere né la retribuzione né gli emolumenti accessori. Dal quinto giorno di assenza ingiustificata, se non ha provveduto ad acquisire il Green Pass, il personale verrà sospeso dal servizio con sospensione ovviamente della retribuzione degli emolumenti accessori. A queste sanzioni che riguardano il rapporto di lavoro si applicano anche le sanzioni di natura amministrativa, in particolare le sanzioni pecuniarie. Viene confermata infatti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 400 a 1000 euro e addirittura raddoppiare in caso di reiterazione dell'illecito. Queste sanzioni ovviamente riguarderanno non solo il personale interno, quindi i docenti e personale ATA, ma anche i lavoratori esterni che dovessero accedere alla scuola per ragioni di servizio o di lavoro. Naturalmente la legge prevede la conferma delle sanzioni amministrative anche a carico dei dirigenti e dei responsabili delle istituzioni, nonché dei datori di lavoro, dei lavoratori privati che accedono ad esse, in caso di mancato controllo circa il possesso del Green Pass. Il testo della legge chiarisce un punto abbastanza controverso, ossia specifica che sarà compito del prefetto irrogare materialmente la sanzione amministrativa pecuniale secondo i principi di quella legge 689-81 ed infine spetterà ai direttori generali degli uffici scolastici regionali verificare ed eventualmente sanzionare i dirigenti scolastici che non dovessero controllare il personale circa il possesso del Green Pass. Vi invito a seguire il sito della tecnica della scuola e i nostri canali social per ulteriori approfondimenti. Arrivederci a tutti.